Al grido di lavoro, 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 hanno invaso l'aula consigliare e di nuovo sfociata in protesta alla mobilitazione dei lavoratori dell'indotto. Chiedono certezze occupazionali dopo l'accordo siglato lo scorso 6 novembre al Ministero dello Sviluppo Economico sui futuri investimenti Eni in città. Dopo lo stop di ieri mattina di l'anziacancelli dello stabilimento, gli operai ieri sera hanno bloccato i lavori del Consiglio Comunale. In molti hanno già concluso tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione, sono gli operai della Smim Impianti, dell'Elettroclima e dell'ex Tucam. Adesso chiedono un'immediata presa di posizione da parte del sindaco Angelo Fasulo. La preoccupazione, la rabbia e in alcuni casi la disperazione dei lavoratori non deve assolutamente essere né lasciata sola né sottovalutata né si può considerare una cosa normale. Quindi giorno dopo giorno, ma io oserei dire ora dopo ora, dobbiamo lavorare a interventi che siano immediati e che diano un supporto, un aiuto in questo momento. Lo stiamo facendo, oggi per esempio siamo col prefetto, la stessa cosa succederà già per domani pomeriggio o per dopodomani e dal Ministero ogni giorno aspettiamo questa risposta. E' chiaro che comprendiamo e sostanzialmente condividiamo la preoccupazione, la rabbia, lo ripeto, ma credo che bloccare i lavori del Consiglio Comunale, bloccando tutti gli altri servizi, non aiuta a trovare una soluzione che non deve arrivare sicuramente né dal Comune perché lì tutte le porte sono aperte, c'è la massima disponibilità, né dalla Prefettura perché è altrettanto grande la collaborazione. C'è bisogno di grande sinergia, c'è bisogno di tenere i nervi saldi. La tensione tra i lavoratori è palpabile, altissima. I lavoratori vogliono fatti concreti, non più parole. Sì, fatti concreti sono quelli che già ci sono da anni, non sono parole assolutamente. Le misure sono già allo studio sia del Ministero che dell'Ufficio del Lavoro a livello provinciale. E se i fatti concreti sono gli anni di cassa integrazione che ora sono finiti, io non mi sento di ritornare a discutere su questo, mi sento di dire cosa dobbiamo fare da qui in avanti e i fatti concreti sono proprio questa attenzione, questa disponibilità e queste risposte che sono già arrivate. Da ieri parecchi lavoratori non hanno un lavoro, praticamente hanno ultimato ogni forma di aiuto e per loro, partendo da loro, dobbiamo trovare risposte. Riunione fatta sabato, riunione fatta ieri, riunione fatta anche oggi, ma non solo per comprendere la difficoltà del momento, ma per dare risposte concrete. E queste, ripeto, arrivano giorno dopo giorno fino ad aiutare i lavoratori in questo difficile percorso. È inutile nascondersi, sappiamo tutti qual è la situazione, serve andare avanti in questa direzione, per dare un aiuto immediato a chi oggi vive una difficoltà, un dramma familiare.